Il REM è un particolare sussidio nei confronti di quelle famiglie che sono in una particolare situazione di povertà. Per aver diritto a questo sussidio bisogna inoltrare una domanda entro la fine di giugno e allegare alla domanda una serie di documentazioni che evidenzi una situazione sia patrimoniale che reddituale che possa permettere di rientrare nei canoni previsti dalla legge.